Sì, William, se ha fede sufficiente un uomo può fare tutto. Potremmo farcela. Tra un mese potremmo avere gloria e ricchezze che nessuno di noi ha mai sognato. Ma non sai neanche giostrare. Secondo me sta peggiorando. Sì, sta peggiorando. Non passerò il resto della vita come un nessuno. Devi essere di nobili origini per combattere. Allora mentiremo. Ho il piacere di presentarvi un cavaliere nato da cavalieri. William Thatcher non stabiliva le regole. Era nato. Ho aspettato tutta la vita a questo momento. Per infrangerle. Sarò qui tutta la settimana. Questo è diverso. E voi siete? Ulrich von Liechtenstein di Gelderland. Sono Ulrich von Liechtenstein. Vorrei che conquistasse il mio cuore. Siete il mio cavaliere preferito. Ha vinto quattro tornei. A cavallo quell'uomo è imbattibile. Se scoprono chi sei, si scatenerà l'inferno. Allora prega che non lo scoprano. Ulrich von Liechtenstein non è quello che vuole sembrare. Vogliono arrestarti una dozzina di guardie reali. Io ti amo. Fuggi. Fuggirò con te. Io non fuggirò mai! Sono un cavaliere. Sono qui per combattere. Adesso danziamo. William! Il vostro nome non ha importanza per me. Purché siete mio. Il vostro nome non ha importanza per me.